Si apre una settimana di nuove proteste nelle università italiane dove si incrociano più temi, a partire dal rinnovo delle collaborazioni tecnico-scientifiche con Israele, che rimane la questione più sentita. Il 10 aprile infatti è in scadenza il bando del Ministero degli Esteri sugli accordi con le università israeliane. Gli studenti sono pronti a scendere in piazza. Domani alle 15 si riuniranno in presidio alla Farnesina in concomitanza con una giornata di sciopero universitario che punta a coinvolgere una ventina di Atenei, obiettivo impedire nuovi accordi accademici Italia-Israele. Dopo lo stop dell'Università di Torino e la normale di Pisa, ora anche i ricercatori, i dottorandi dell'Ateneo Pisano, chiedono la sospensione di ogni collaborazione. Con la stessa richiesta, la rete studentesca pro-Palestina ha occupato il rettorato dell'Università Federico II a Napoli. Tutto questo mentre l'Unione Giovani Ebrei, riuniti con la Comunità Ebraica Milano, lancia l'allarme per le crescenti minacce ricevute in questo periodo, un rischio, ha sottolineato Anna Tognotti dell'UJ, che ha costretto molti universitari e ebrei a cambiare stile di vita. Mentre un nuovo tema è destinato a suscitare polemiche, quello sollevato dall'Associazione Studenti Musulmani del Politecnico di Milano, sul tavolo del Senato Accademico, la richiesta di sospendere le lezioni il prossimo anno, in concomitanza con le due festività più importanti, la fine del Ramadan ad aprile e quella di Eida Lada a giugno.